Presentato a termo il progetto Autismio, ideato dalla cooperativa sociale Sirena e finanziato dall'assessore regionale Pietro Qualisimale. Un'iniziativa che mira a far conoscere la realtà dell'autismo a 360 gradi attraverso il racconto di famiglie, amici ed educatori. Si tratta di progetti anche cosiddetti pilota per andare incontro alle esigenze delle persone più fragili e più deboli della regione Abruzzo. In questo caso parliamo di autismo, tutte le persone effette dal spettro autistico molte volte vengono lasciate sole. Non riusciamo a capire quali sono le problematiche, quindi noi con questo progetto vogliamo andare incontro alle famiglie, a queste persone che hanno queste problematiche per capire poi come adattare il nostro piano sociale, che è un piano sociale innovativo ma anche esso, si può adeguare a queste esigenze. Quale sarà la durata di questo progetto? Quando si avranno i dati definitivi? Noi cercheremo di partire immediatamente, poi nell'arco di alcuni mesi faremo una verifica, questo progetto può essere anche rifinanziato e tra l'altro a breve uscirà un bando di oltre un milione di euro proprio per mettere in campo una serie di azioni relative al problema autistico. E con questa cooperativa vogliamo illustrare il contenuto di queste misure, come fare domanda, ovvero un servizio di vicinanza a queste persone che sono in difficoltà. Il progetto nasce dall'idea di voler comprendere cosa significa essere soggetti autistici 365 giorni l'anno e vivere tutte le problematiche legate a questo contesto. Per questo motivo il progetto mira ad approfondire e divulgare attraverso il racconto in particolare delle famiglie le vite di queste persone per poi trovare iniziative più idonee per loro. Al di là delle varie problematiche, strutture per questo tipo di disabilità non esistono, non ci sono o se esistono pochissime. Quelle che esistono sono quelle terapeutiche, però i ragazzi minori con questa patologia hanno bisogno di altro, hanno bisogno di socializzare, hanno bisogno di stare insieme, hanno bisogno di partecipare perché molti che hanno una disabilità, chiamiamola leggera, potrebbero lavorare anche, quindi un'inclusione lavorativa, nelle varie strutture che ci stanno. Però è un discorso da fare per non lasciare questi ragazzi soli.